Amici ci troviamo qui con Rocco Bonelli responsabile casting sezione cinema. Allora Rocco come sono questi ragazzi e tra questi ci sarà il volto del cinema? Allora ancora ne ho provinati pochi, però quel poco già qualcuno interessante c'è, anche qualche bambina molto bella, molto carina e di un talento veramente bravi, bravi veramente. Ora è da vedere tutto il resto, speriamo di trovare qualcuno che sia al caso nostro per fare la continua del film di Sando, caccia al prete. Quindi è anche importante però che questi ragazzi vengano seguiti per lo studio diciamo? Certo, questa è una cosa giustamente, deve essere preparato per poter recitare, per poter avere un ruolo, devono essere preparati questi ragazzi, anche se sono bravi ci vuole un po' di preparazione. Quindi la faccia non è tutto, magari c'è un viso particolare però poi non sa recitare? Sì, infatti, c'è la faccia che potrebbe essere interessante però poi si mettono davanti a una telecamera e non sanno parlare e quelle possono fare solo la comparsa. A volte invece ci sono sia la faccia che va bene e anche il talento della recitazione che sono ragazzi bravissimi. E' da vedere un po' cosa troviamo qua. Va bene, allora ci vediamo dopo. Ok, grazie, ciao ciao.